Ciao ragazzi, è tutto il mio canale, io sono Dragongest e oggi 25 ottobre 2022 andiamo a vedere cosa c'è disponibile ai cosi oggetti di Fortnite! E' arrivata finalmente ragazzi nel shop di Fortnite il bundle e le offerte speciali della Epic quello che stiamo aspettando è il pacchetto in carichi Accademia Santa ad 8 euro e 1000 V-Bug ragazzi il regalo andiamo a vederla, esaminiamo gli oggetti e abbiamo la bellissima Vivica Santa e poi il suo dorso decorativo, Istoria Santa e quindi lo strumento di raccolta, paletti di gioco e gli incarichi Vivica Santa ragazzi ad 8 euro ci portiamo tutto questo bundle a casa e il bello è che 8 euro è il costo di 1000 V-Bug nella normalità quindi tutti questi tre oggetti ragazzi è come se fossero in regalo gli incarichi ragazzi saranno sicuramente i giornalieri come sempre torniamo indietro ragazzi e andiamo a vedere lo shop di oggi torniamo all'inizio andiamo a farci la nostra carrellata veloce abbiamo il bundle stregone con Destiny Domen le due emote che non escono da più di 300 giorni zombificate e funky fantasy, assassina atletica e poi tutto il bundle delle sabbie immortali e nel giornalire abbiamo macello e pilastro quindi ragazzi torniamo in alto, mi raccomando attivate la campanellina mettete un bel mi piace, condividete tutto quello che potete andiamo a vedere il bundle stregone con la bellissima Destino il costume leggendario ragazzi stiamo parlando della prima apparizione della stagione 4 del set stregone come ben sapete e quindi il dorso decorativo sfera a sinistra e poi abbiamo Omen, gira di un pochettino chicco abbiamo Omen ed il suo dorso decorativo manto della battaglia, bellissimo ragazzi lo strumento di raccolta, struttura condannata il picconazzo ragazzi che fa parte di questo set e poi ancora un altro picconazzo strumento di raccolta, ascia dell'oracolo e quindi il deltaplano, ali spagliate 3000 V-Bug per portarci tutto questo bundle a casa poi abbiamo la possibilità di prenderli tutti in modo singolo tra Destino a 1200, Omen 2000, ascia dell'oracolo a 1200 e ali spagliate a 1200 anche lui il deltaplano e quindi il picconazzo struttura condannata ad 800 scendiamo e abbiamo l'emote zombificato più di 300 giorni che non usciva 500 V-Bug ragazzi ed è il nostro capitolo 2, stagione 1 abbiamo poi Funky Fantasma 500 V-Bug ed è il nostro capitolo 2, stagione 1 abbiamo poi Pugno del Re della Tempesta 800 V-Bug ragazzi bello bello, molto bello ragazzi guardate quanto è figo comunque 800 V-Bug ed è il nostro capitolo 2, stagione 1 il Re della Tempesta, la musicazza 200 V-Bug ragazzi ed è nostra, la mettiamo nell'armadietto assassina atletica costume raro con più stili selezionabili predefinito, niente cappello senza occhiali, senza maschera e no a tutto meglio quasi a tutto ragazzi fondina all'ultimo grido il dorso decorativo 1200 V-Bug e portarci questa bellezza a casa poi abbiamo il Pompon della distruzione a 500 V-Bug e così andiamo a completare il set di assassina atletica scendiamo e abbiamo il bundle sabbie immortali con la bellissima tempesta di sabbie i suoi stili selezionabili con la maschera senza maschera e senza maschera e cappuccio bella, bella, bella veramente ragazzi poi abbiamo anche il bellissimo scimitarra cazzutissimo proprio maschera senza maschera e senza maschera e cappuccio bello, bello, bello poi abbiamo la scia Cronos, bellissima anche questa e la copertura emblema che non mi fa per nulla impazzire 2000 V-Bug per tutto questo bundle ragazzi possiamo poi prendere la tempesta di sabbie in modo singolo scimitarra in modo singolo ambe due allo stesso costo di 1200 V-Bug Cronos a 400 ed emblema a 500 la copertura animata e nei giornalieri troviamo Macello la skin da 800 V-Bug come vi dico sempre ragazzi le 800 se potete prendetele tutte perché non sono per nulla brutte capitolo 2 stagione 1 fa parte del set segnalatori abbiamo poi il pilastro questa sottospecie di bruco ambulante ragazzi con più stili selezionabili stile in anteprima il predefinito questo qui in giallo e poi lo scuro ragazzi questo scuro mi piace veramente veramente molto e il suo dorso decorativo carapace tutto questo fa parte del set squadra crisalide la prima apparizione della stagione 9 1200 V-Bug ragazzi e ci portiamo questa skin a casa taglio fresco lo strumento di raccolta non comune da 500 V-Bug ragazzi poi abbiamo Pumpernickel l'emote da 500 V-Bug oh dicete di chicca eccola qui 500 V-Bug ragazzi della nostra prima apparizione stagione 5 Fischer l'emote da 500 capitolo 2 stagione 1 è un emote mobile ragazzi bella 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 anche questa e abbiamo poi Baldoria 200 V-Bug ragazzi ed è nostra nella stagione 9 è la sua prima apparizione torniamo indietro ragazzi e per quanto riguarda lo shop di oggi è tutto io scendo sino alla fine vi posso dire che è stato reintrodotto oggi il bundle di Gremen io ieri non credo di averlo visto era stato levato benissimo quindi ragazzi abbiamo il pacchetto incarichi Accademia Santa con Vivica vi consiglio di prenderlo invece che fare una ricarica da 8 euro ragazzi io ritorno di nuovo in lobby per andare ad alzare qualche livelluccio io vi do appuntamento a domani e vediamo se in giornata riesco a caricare per voi altri video un salutone un bacione e un ciao 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 ciao